La sanità è il tema centrale della regione Campania, oltre il 65% del suo bilancio e poi il servizio essenziale ai cittadini. Noi sulla sanità che ci misuriamo, sanità e trasporti, la sanità è essenziale non solo vista dal punto economico-finanziario, abbiamo avuto giudizi favorevoli, siamo diventati una regione virtuosa sulla sanità, però questo non basta. Dobbiamo offrire, oltre ai conti a posto e quindi ai pareggi di bilancio, anche una buona sanità. La mia visita questa mattina è un ospedale straordinario, grandi eccellenze come Ugi d'Aragona a Salerno, un'azienda ospedaliera che lavora in H24, quindi con il pronto soccorso, con tante legate all'urgenze, con delle performance straordinarie, quindi abbiamo anche noi le fiori all'occhiello, ma questo non vale solo per Salerno. Oggi pomeriggio, fra un po' visitiamo anche il San Paolo di Napoli, che è la zona orientale, quindi un'altra porta di accesso, e anche in quel caso è un ospedale di frontiera, ma che sta dando risultati molto positivi. E poi qui nella realizzazione di un grande progetto che rientrerà nella rete ospedaliera, quindi dobbiamo far vedere quanto è magnifica quest'opera, che rischiava di rimanere un'opera incompiuta, senza risorse, con blocco dei finanziamenti, cantiere fermo da due anni circa, per contenziosi, inchieste della magistratura, inchieste della Corte dei Conti. Abbiamo lavorato moltissimo in questi mesi per garantire le risorse che non c'erano, mancavano circa 200 milioni di euro, che in questo periodo non è facile trovare, siamo riusciti a convincere il governo di utilizzarli per queste importanti opere, abbiamo avuto lo sblocco, quindi il cantiere potrà riaprire nei prossimi mesi, già le procedure sono già avviate. Ci abbiamo un problema che riguarda tutti, perché su cinque anni il blocco del turnover totale ha fatto diventare la Regione Campania ultima in Italia come percentuale di personale sanitario in servizio, siamo sotto il 12% alla media nazionale, quindi significa per noi circa 5.000 unità in meno, fare sanità e fare buona sanità con questa difficoltà di organici è veramente quasi impossibile, sfioriamo l'impossibilità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, dobbiamo lavorare col governo per garantire lo sblocco del turnover, quindi vedremo poi nelle forme possibili, ci sarà la mobilità, ci sono dove necessità fare nuovi concorsi, c'è già una norma nazionale che lo prevede, è una norma a quale noi abbiamo già risposto perché bisognava fare una veifica in tutte le asole, in tutte le aziende ospedaliere, sulle necessità che abbiamo mandato al governo e in particolare al Ministero dell'Economia e al Ministero della Salute, quindi hanno già tutta la documentazione necessaria per dimostrare appunto la necessità di questo sblocco. Noi dobbiamo garantire una buona sanità, quindi non è un problema solo di costi, è anche un problema di garantire quei livelli essenziali, ricordiamo sempre che il diritto alla salute è un diritto costituzionale.